grazie ma è l'hangar vicino alla prigione isolata siamo noi perchè posso dire a lui movimento, 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 zaino rosso all'hangar non quello dove siete voi quell'atto lo vedo, lo vedo è entrato, è entrato, è entrato appena esce lo sparo c'è ancora uno in giro ragazzi perchè no no mi sa che si sono ammazzati tra di loro noi siamo in magazzini quasi ma la torre di controllo si è andata nei magazzini siamo in 3 posto in mezzo ai due hangar io che sto ancora davanti al secondo hangar madonna io raga movimento, torre di controllo, torre di controllo siamo noi esce esce è uscito da l'hangar andando in mezzo ai due hangar ancora arriva, arriva e dietro l'hangar c'è lei di fronte profondamente io provo è fermo, vediamo preso, preso, preso abbiamo fatto la trattica io e claus non vi preoccupate voi se voi parlate di continuo e noi siamo a 20 metri dal player io non sento i passi non sento le cose m4 era solo lui quindi, mi stacco il caricatore da 60 era solo lui c'era uno con il caschetto blu ma credo che si siano ammazzati tra di loro perchè sono arrivati nello stesso punto dove si sono ammazzati l'agra si che vuoi ora la sconda il corpo no qui non c'è niente ma ora c'è qualcuno in giro ancora c'è qualcuno in giro qui non c'è nessun corpo non è che l'hanno ascolto no, è passato troppo poco tempo lo vedrei comunque da in giro o sta nella torre controllate la torre io sto alla seconda prigione fisso che guarda la porta siamo due tu stai apponga qui raggiungiamoli e devo che arrivate dagli anchorsi sì 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 ok noi siamo ai muretti qui ai magazzini siamo in tre non c'è sparata beh c'è n'è uno sotto la torre siamo noi siamo noi se ti vuoi interessare un caschetto blu in testa quello quello sì eh allora regala ne ho visto nessun caschetto blu è stata questa parte il bianco è un'altra parte di pina ok metti di lì a spot alle cose rilevanti vada un più scuola controllate quando ha controlla la torre da mare fatta sono sul bordo e del resto entro e salgo porca puttana non è faggio ma si l'ho sceso di piaccia volatil posso pronuncio nessuno cazzo è andato questo diremmo da trovarà la vecchia cittadini io 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 porto voglio non ho detto ha detto regà si 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 non ho letto dopo la torre se tu vuoi abbiamo detto anche questo eh no ma io ti ho sentato a conferma eh però sai che era spam se tu fai così e altre tre persone fanno così sai che era quello che si è creato prima chi fa una torta? dove la vuoi fare la torta? lì dentro? ok aspetta la faccio io copritemi aspetta finisco di torteggiare la prigione aperta tutto aperto libero entro sopra forse sembra chiusa ma comunque sembra vuoto ma è chiusa fuori apro eh quando io entro nelle case io chiedo sempre la porta ma è che salgo 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 salgo